Il titolo del disco è Populista, scritto pop-ho-lista e gioca sul termine populista e hooligans del pop, facendo denotare un po' il concept del disco, ma anche il fatto che ormai mi sto staccando un po' dalla scena rap tradizionale per fare un po' quello che mi sento di fare. Io non prendo le distanze dalla scena rap italiana, è la scena rap italiana che prende le distanze da me, che è diverso, ma fanno benissimo. E' un discorso semplice, io lo faccio, però quando lo spiego ad altre persone magari non è così scontato. Nella nostra subcultura chi mette la testa fuori dal vaso è un po' come se tradisse l'ambiente da cui arriva. Io non sono figlio di quell'ambiente, sono arrivato da lì, mi sono formato lì, ho fatto la gavetta che dovevo fare, dura e molto in salita. Quindi non ho uno spirito di appartenenza che gli altri si sentono di avere con me. L'esigenza di cambiare è semplicemente perché non mi piacciono i déjà vu artistici e la routine mi annoia abbastanza, quindi ogni anno provo a fare cose diverse, provo a strutturare, a lavorare il disco, sia da un punto di vista della scrittura e della composizione dei pezzi, che da un punto di vista del marketing e di come far uscire le cose, quindi cerco sempre di cambiare. Beh, ognuno ha una storia diversa, nel senso che lì avevamo amicizie in comune, fondamentalmente il denominatore comune è che sono artisti che stimo e con cui volevo collaborare, non c'è niente di strano. Io sono un grande ascoltatore di cantautorato italiano e mi sentivo di fare una cosa che mi piaceva, come nell'album ci sono molte sfumature punk, perché arrivo da quel background, ho tentato di fare un pezzo che andasse oltre i confini del rap, quindi non essendo vincolato dalla rima e cercare di esprimere dei concetti semplicemente con la voce e la scrittura. E non so se sono riuscito a farlo bene, però... Beh, calcola che io ho vissuto la mia adolescenza negli anni 2000, in cui le boy band furono ammazzate da tutte le pop punk band, con l'arrivo dei Blink-182, SM41, la rinascita dopo la depressione di Green Day, gli Offspring, Jimmy Eatworth, Propagandi, Pennywise, e quindi quando ci cresci con determinate cose sono cose che ti rimangono attaccate, ti ricordano delle fasi della tua vita, e quindi ho sempre apprezzato il pop punk più che quello più underground, conoscendolo, essendo un gran culturale anche di quello. Ho sempre apprezzato lo studio delle melodie e la semplicità, i Blink-182 sono dei musicisti che non conoscono la musica, e facevano delle hit con dei semplici arpeggi, in cui la nota si ripeteva una volta e poi cambiava, e dei palm mute, e riuscivano a fare delle grandi cose, secondo me. Nonostante non fossero dei grandi musicisti, a parte il batterista, che è uno dei più bravi batteristi del mondo.